La rete Ictus dell'Asl Salerno viaggia a pieno regime. Sono ormai più di un centinaio gli interventi eseguiti tramite la Telestroc, il sistema integrato per la valutazione a distanza e la presa in carico del paziente colpito da Ictus. Solo nella zona di Sapri sono stati tre nell'arco di due giorni. Il progetto sperimentale, partito nel 2023 e fortemente voluto dal direttore generale Gennaro Sosto, è stato allargato a tutta la rete ospedaliera aziendale nei primi mesi del 2024. Consente oggi di garantire ai cittadini l'intervento tempestivo sull'Ictus nell'intero territorio di competenza dell'Asl della provincia di Salerno. Nei giorni scorsi l'intervento provvidenziale tramite la Telestroc ha consentito di salvare la vita ad un 65enne nella zona di Sapri colpito da Ictus. Come da protocollo, è stata prima effettuata la consulenza in telemedicina tra gli operatori dell'ospedale di Sapri e la Neuroradiologia dell'ospedale di Nocera Inferiore. Il paziente è stato poi trasferito in elisocorso al nosocomio nocerino Umberto I, dove è stato sottoposto al trattamento di trombectomia meccanica nel giro di poche ore. La rete Telestroc è basata sul modello Hub & Spoke, un sistema bidirezionale di videoconferenza che consente al neurologo nell'ospedale centrale, dotato di Stroke Unit, l'ospedale Hub, che in questo caso era quello di Nocera, di effettuare l'esame neurologico a distanza, vedendo e interagendo con il paziente e con i medici dell'ospedale periferico, che è l'ospedale Spoke, che in questo caso era quello di Sapri, rendendo così possibile diagnosticare da remoto ed eventualmente avviare così tempestivamente il trattamento trombolitico dell'ictus ischemico.